Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, nella giornata di oggi nominerà il nuovo assessore che prenderà il posto del dimissionario Massimo Santone. Nel segno della continuità, la scelta è ricaduta su Andrea Dicenzo, del gruppo Vivere Silvi. Un segno di maturità lo ha definito il primo cittadino per continuare un lavoro iniziato insieme al gruppo. Naturalmente voglio fare i ringraziamenti a Massimo Santone per l'impegno profuso e voglio ribadire le scelte che sono solo di natura personale, familiare, a cui facciamo in bocca al lupo. Naturalmente abbiamo scelto di dare continuità, abbiamo fatto un incontro di maggioranza con le forze politiche. La continuità va sulla scelta del gruppo Vivere Silvi, dunque con la nomina di Andrea Dicenzo. Il nuovo assessore rileverà le deleghe del suo predecessore, ovvero turismo, pubblica, istruzione e protezione civile, oltre ad occuparsi di sport, così come fatto in questi anni da consigliere. L'intera amministrazione, l'intera maggioranza politica ha voluto andare sul lavoro che era stato creato nei mesi precedenti e dunque Andrea Dicenzo porterà a compimento, dato che collaborava già con l'assessore Santone, su tanti progetti che per l'estate sono pronti. La rinuncia di Santone ha suscitato immediatamente la reazione della minoranza, soprattutto quella del Partito Democratico, che parla dell'ennesimo fallimento dell'amministrazione comunale. Infatti, solo un anno fa Santone aveva lasciato il gruppo consigliare della Lega per costruire, proprio insieme a Dicenzo, il gruppo civico e che poco dopo portò ad un rimpasto di giunta. Accuse però rimandate al mittente dallo stesso primo cittadino, il quale conferma come Massimo Santone continuerà ad aiutare, seppur dall'esterno, questa maggioranza. Sappiamo che aveva problemi personali, però la maggioranza è coesa, le forze politiche sono coese, questa è una coalizione centrodestra che sta portando avanti i propri obiettivi e i propri programmi anche per il futuro e siamo convinti che saremo ancora più forti rispetto ai mesi scorsi.